bella raga sono male per questo nuovo video. Allora scusate che il telefono c'è regalo sia reggio e magno. Allora oggi c'è la paggita e 5 alla vispia che sto con Trevor Phillips di mezzo. Scusate. La faccia del figlio. C'è. Devo. Aspetta. Anzi. Sì. Andiamo 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 a fare shopping. Le macchine belle. Ci compiamo. Piediamo di tutto e c'è un paio di macchine fighe. Tanto con Franklin e Michael già ho comprato l'aeroporto quindi perfetto. Iscriviti al canale ora. Now. Ok. Ok. Ci viene tutto il garage. Ok. Vediamoci cosa c'è la grafica. Ok si è bella. Garage acquistato. Ottimo. Ma non è che c'è la prima di comprare l'autosiletto che gli ho fatto stronzo. Ora vi compro una volta andiamo a dormire e schiazzi. mi chiedo perché mi chiedo ancora perché tremo rapidi in uno stickler. Però dettagli. simile. Ok. E ora andiamo. Ora andiamo andiamo a dormire. Prima copriamo l'autosiletto. questo sito è troppo buono con quale faccia lo sta dicendo Rosalella sta ridendo perché si sta vedendo un film su Netflix e ormai da che film si sta vedendo leggere in motosport e non vedere l'alzo intorno e qui la cala vogliamo un po' di cosa bianca orvino ok ok zelton è comprata e ora aspettiamo domani domani cioè domani nel gioco non andiamo a dormire surprise ma non andiamo a dormire vabbè apriamo l'auto andiamo subito al nostro garage perché di solito le auto le consegnano dopo 4.000 giorni su GTA perché c'è le aspettarei tipo 80.000 ore perché lo ricacciano subito la zelton ok no prima ora andiamo andiamo dalla santo scuso ma andiamo con l'uomo con l'uomo con l'uomo e non cazzo le liste stavano andiamo quanto figo il piccolo di trevo c'è e non ho fatto vivo scriviamo un video di se vi lascio quindi i video sottolando e i video che cazzo sta andando si sta andando il posto giusto ok ok ogni volta mi scordo a fare lei non mi ha detto ok e raga ogni volta mi scordo che sto con trevo perché Franklin ha l'abilità di bloccare il tempo e io non sono umano mi dà un uomo certo adesso lo faccio adesso lo faccio adesso lo faccio stai arriviamo con il mio del tempo ora andiamo dallo santo scuso la nostra Pegassi Zentorno non mi so non mi ricordo se si chiama Pegassi pure no Zentorno e la madonna che cazzo è oh si basta basta il culo se li va no vittorietto sono allora due cazzo mi hanno dato un altro scusso il quale lo so scusso e quello più vicino io quello all'aeroporto d'attacco a cazzo io mi fate da un'altra mi andavo a questo lo so scusso vaffanculo allora calcolando grazie intorno secondo me allora non lo è però secondo me è una macchina più bella di 5 a 5 però ci sono altre macchine più file tipo quella che salta con una macchina c'è un monostrato però quella che salta non ha poco scrive tipo la moto ma se non lo è ancora ragazzi io non mi ricordo comunque cioè allora la macchina è figa va veloce e cazzo l'automobile e l'ho detto e l'ho detto perché c'è forse pure si può accompagnare sotto e lei era andata in casa bravo allora e l'ho detto che c'è il suo avvito e lo vediamo l'asparto con il mio e l'ho buongiorno buongiorno signora allora eeeh ma che cazzo arriva mi sembrava la macchina mia si mi faccio l'altra macchina al piccac al piccac come cazzo si chi dice parale veicolo armature 100% di 130 freni da gara motori motori ovvio aspetta che cazzo stai facendo motori adesso ma ma questi sono brutti raga non so che cosa cazzo ci trova che bello stanno l'interno fa poco pagare questa è figa a copoli così a strisci raga il piazzo ragazzi le piazzze nuove luci scherano questi come la facciamo raga io la voglio fare grigia e rossa quindi mettiamo rosa poli che cazzo rosso e fari fari luci alzineo target armature eccola colore secondario allora opaco ecco allora rosso 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 scuro rosso rosso poi poi il secondo principale sempre opaco grigio chiaro eccola raga non è verificata c'è porca puttana allora le note le lascio così tutto così il fumo dei pneumatici e queste cose le miniconne spoiler lo fanno grigio rosso e la madonna raga questo però lo voglio rosso ecco aspetta ecco parla che fila che fila allora spoiler telali telali che cazzo sono ah rosso poi non mette con una attenzione tutte le ruote le malice comunque le malice rosso si incendi che cosa ti piace non ho notifiche non ho notifiche non ho notifiche tipo i due adegli lascio questo come che mi già c'è no non uscire fila stile ecco dimosì ok apposto si uscì minchia che bella ma il plazzo non rivolgiamo perché la c'è stile allora non ho notifichato la c'è la c'è allora aspetta se togliamo quelle luci c'è mettere la cazzo la cazzo madonna che figa c'è proprio però va dentro non c'è come la c'è figata ah ma è due posti io pensavo a quattro proprio stile o facciamo una cosa cosa succede se andiamo a intossigare i patometti c'è tipo a intossigare cioè andiamo a spursare di quel fumo io non so perché ma te vorrei non so sguidare andiamo tipo a fumizzare un cazzo sì vabbè ragazzi non possiamo co sud no non cazzo la mamma che fa eh vabbè 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 Vado F**k you Adesso GTA dove voglio giurci una cosa perchè noi sti pure volevamo sparare no? Guardate che cosa fa Rompè il peso aspetta A volte rompe il peso Cioè lui per sparare rompe il peso Cioè tipo per i vetri si possono abbassare Quando devi sparare sta zitto prego Quando devi sparare quindi cioè Scusate 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 Ma cosa ho fatto? Rikaru non ho fatto un ca... Rikaru non ho fatto niente l'avete visto? Rikaru non ho fatto una città Vabbè non è che c'ho zitto Ammi viate stupendo Rikaru non ho fatto niente 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 Ma se per i miei col брone Rikaru non tu non è Rikaru non ho fatto niente Rikaru non ho visto niente Rikaru non ho fritto Rikaru non ho fatto niente Rikaru non ho fatto niente